non ce n'è qua nella terra non ce n'è dove ammazzare la lumaca dove ammazzare la lumaca rossa no è tanto va sempre ciao bravo di là vai 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 buttati no c'è l'otto tanto puoi girare di qua cazzo appena si parifica sotto siamo a posto però l'ho fatta per così no di modo che arrivi lì e vai giù no di traverso è bellissima si può fare si può fare si può fare uno spettacolo adesso andiamo da sotto la facciamo dai che andiamo giù a farla da sotto da sotto la prendiamo da sotto vai vai a vedere la valle della morte chiamasi valle della morte ecco dove è andato su lui poi giri dentro a sinistra guarda che è già arrivato in fondo dove è andato lui eh dai che lo porto sotto gliela faccio provare da sotto no ma non è tanto alta si può fare non è tanto alta proviamo eh andiamo da qua c'è solo un pezzettino e basta e poi c'è un metro d'acqua prima devi salire tu non giù su no a lui digli dov'è dai che lo inquadro forza forza vai fra e adesso quando arriva l'acqua la prossima porta via tutto la spiana bella di vita la va via tutto lì ma adesso arriva fra la prova si arriva non arriva non arriva allora il legno lo togliamo però è un po' è un po' è un po' da scavare un po' facciamo scendere il cifo due o tre volte vedi che la scava giù vedi belle ginocchia scarpe tutto ecco che arriva va che arriva non di lì devi farla di là che resti diritto no la pianta l'abbiamo tolta quella era su lì prima l'abbiamo tirata via apposta vai buttati no ma non devi prendere il traverso devi fare il giro e la prendi diritto prova prova ad andare su a vedere prova prova tanto la apriamo prima o poi prima o poi la apriamo in un modo o nell'altro perché c'è giù un metro d'acqua è quello il problema